dal mio letto vado a sono andato a rivedermi la puntata infogata quella di oggi all'arena dove il conduttore massimo giletti e lez euro parlamentare deputato mario capanna si sono scontrati in diretta tv un litigio che ruotava sul tema dei vitalizi e che si è acceso dopo che giletti ha lanciato a terra un libro scritto da capanna che oltre ad essere un ex euro parlamentare è stato un leader dei movimenti studenteschi del 68 volto storico di democrazia proletaria ex parlamentare ed ex consigliere regionale della lombardia prendo un vitalizio di 5 mila euro al mese ma non sono privilegiato ha messo capanna all'arena su rai 1 un'affermazione che ha mandato su tutte le furie massimo giletti che dopo qualche botta e risposta ha perso la pazienza e ha lanciato per terra il libro di mario capanna e ha lanciato la pubblicità nikigiusino.it commentate il video condividete il video iscrivetevi al canale sempre se vi va salve